Volevo mostrare l'infondatezza del mito secondo il quale tutto ciò che è naturale è anche necessariamente buono. Intendiamoci, ci sono un sacco di cose naturali sicuramente buone. Un tramonto sul mare, un lago alpino, una cascata vorticosa, uno stormo di fenicoteri rosa o un cielo stellato sono sicuramente cose che ci riempiono il cuore di gioia. Ma ricordiamoci anche che i terremoti, gli uragani, le invasioni delle cavalette e le malattie causate da batteri e virus, ahimè anche il covid-19, sono perfettamente naturali. Da diversi anni si è diffusa la moda del ritorno alla natura. La natura viene spesso indicata come modello di vita a cui ispirarsi, altri. Altrettanto spesso però la natura viene confusa con la tradizione. Prova ne è che coloro che esaltano un ritorno alla natura sono molto spesso gli stessi che propagandano la necessità di un ritorno a un sapere nostalgico, a un ipotetico e idealizzato passato in cui tutto era migliore, a cominciare appunto dal rapporto armonioso tra uomo e natura che sarebbe stato rotto dal progresso scientifico e tecnologico. I dati storici però ci fanno capire che i tempi antichi non erano affatto così belli come qualcuno ci vuol far credere. Ciò nonostante, i bei tempi antichi, i sapori di una volta, i rimedi della nonna, la genuinità di certi prodotti, l'armonia con la natura appunto, sono richiami che esercitano un fascino irresistibile su molti individui e quindi inevitabile che di essi si sia impadronito il marketing ecologico, biologico, verde, naturale, genuino, tipico, di una volta, sostenibile, eccetera, sono ormai termini che ricorrono costantemente nel linguaggio pubblicitario. È piuttosto paradossale che ciò che è nato come contraposizione e rifiuto alla società consumistica e capitalistica venga oramai utilizzato quotidianamente proprio per aumentare i consumi. In genere noi crediamo di avere le idee ben chiare sulla distinzione fra ciò che è naturale e ciò che è artificiale, ma se ci pensiamo un attimo tale distinzione non è così netta. Una imponente diga che altera il corso di un fiume costruita dai castori è naturale o artificiale? Un termitaio alto 5-6 metri con una elevatissima complessità strutturale interna, è naturale o artificiale? Per quale motivo solamente le opere dell'uomo e non quelle delle altre specie viventi dovrebbero essere non naturali? In fin dei conti anche la specie umana è perfettamente naturale al pare delle altre specie viventi. Distinguere tra ciò che è natura e ciò che non lo è, in fondo, è solo una convenzione linguistica. Ciò nonostante, a causa delle mode di cui parlavamo prima, l'aggettivo naturale viene oramai appiccicato a numerosissimi sostantivi che indicano attività umane. Si parla infatti di agricoltura naturale, alimentazione naturale, medicina naturale, cosmesi naturale, eccetera. Queste espressioni sono spesso un ossimoro. L'agricoltura, la medicina, la cosmesi ad esempio, nascono proprio con l'obiettivo di modificare la natura e quindi per definizione non possono essere naturali. Se poi si analizzano i contenuti di queste discipline naturali, ahimè, si scopre che hanno ben poco fondamento. La cosiddetta agricoltura naturale, per esempio quella biologica, non offre sostanziali vantaggi rispetto a quella tradizionale, né per la qualità dei prodotti ottenuti, né per la loro sicurezza e né meno per la tutela dell'ambiente. L'agricoltura biologica, infatti, ha rese molto più basse di quella tradizionale e questo determina un aumento della superficie coltivabile, con conseguente deforestazione. Per non parlare poi dell'agricoltura biodinamica, più simile alla stregoneria che a una pratica agronomica razionale. Lo stesso vale per la medicina. Molte delle cosiddette medicine naturali, per esempio l'omeopatia, non hanno mai dimostrato di avere un'efficacia superiore al semplice effetto placebo. In definitiva, quello che è importante nel valutare le cose non è la loro origine naturale o artificiale che sia, bensì le loro proprietà e le loro caratteristiche, che vanno valutate in modo obiettivo e non ideologico, effettuando un accurato rapporto beneficio-rischi. Arrivederci.